Eh, teneteci qui ragazzi, siamo tutti andati. Ma... L'avete sentito? Si... Quello... E' il tempo della casa mia. Rievi, rievi... Rievi, rievi, rievi... Ecco fui! Come, vedi, vedi... Non c'è nessun pezzo. Non c'è nessun pezzo. Non è dubbio che vim porto della casa mia. Merda... Ok... Adesso, priò do mio, qui dire. Andiamo, 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 oh, il reto ai vedici.